Sì, vabbè, ora c'era questa settimana di pausa e sicuramente ha servito, penso a tutti, anche per i ragazzi infortunati che tornano nel gruppo, che sono giocatori molto importanti e ha servito anche per questo. E oggi inizia la settimana importante perché la domenica abbiamo il Malaga e penso che è il momento giusto per vincere una partita, perché le prime due partite penso che abbiamo meritato noi, abbiamo giocato molto meglio noi le prime due partite, però purtroppo solo due punti, quindi penso che domenica sarà il giorno giusto per finalmente fare i tre punti. Sì, diciamo che non è proprio un inizio fortunato, sia per le due partite che penso abbiamo giocato meglio degli avversari, sia per i compagni che si sono infortunati, che sono giocatori forti, che ci daranno una grande mano appena sono di nuovo in forma. Quindi è un inizio non proprio fortunato per tutti, però come ho detto abbiamo fatto due grandi partite, penso mancava solo la vittoria e spero che domenica arriverà la prima vittoria. No, diciamo che in Italia in tutti gli anni io ho giocato sempre a tre a centrocampo, ho fatto sempre le due mezzale, quelle un pochino più offensive. Ora magari giocando a due come Bruno, come Trigueros è un pochino più difensivo, a me mi gusta più mass offensivo, un ruolo mass offensivo. E penso che in questo modulo, in questa formazione qua nel 4-4-2 la migliore ho ora, come sto giocando a sinistra, ho magari un pochino come seconda punta. Penso che questi due ruoli qua in questo modulo sono i migliori per me. Penso che questi due ruoli qua in questo modulo sono i migliori per me.